Ciao e benvenuto nel canale di Tony Montana con la Trovalla 97 In più potrai trovare video su armi, ricarica, soprattutto per ricarica e munizioni per armi corte ricarica e munizioni per armi lunghi e ricarica per armi canna liscia Che aspetti quindi? Se voi ci autoforte in questo meraviglioso mondo clicca lì in basso, iscriviti per avere le ultime notifiche attiva le notifiche automatiche e mi raccomando ricordati di iscriverti sul mio canale Telegram Ciao, a presto con nuovissimi video!